Non chiediamo elemosine, parole o promesse vane, chiediamo soltanto di lavorare. Con questo appello le associazioni delle micro e piccole imprese operanti nei settori del commercio, del turismo e dei servizi organizzano per venerdì 26 marzo in Piazza del Popolo a Pesaro alle 10 e 15 una manifestazione a difesa del diritto costituzionale al lavoro che ormai si legge in una nota. Da un anno è calpestato con decreti governativi che impediscono agli operatori di svolgere la propria attività. Le categorie, pur consapevoli dei rischi legati all'emergenza sanitaria e la necessità di mettere al primo posto la salute pubblica, lanciano un grido unitario di allarme e di protesta per la disastrosa situazione economica che stanno vivendo. A centinaia di imprese, prosegue la nota, sono stati richiesti prima enormi sacrifici per adeguarsi ai protocolli anti-Covid, ed ora è stata imposta la chiusura, quindi oltre il danno anche la beffa. Nel corso dell'iniziativa, autorizzata dagli organi preposti, una delegazione di operatori e rappresentanti delle associazioni sarà ricevuta dal prefetto di Pesaro e Urbino, Vittorio Lapolla, al quale verrà consegnato un documento con le richieste delle imprese al governo. I commercianti, inoltre, terranno spente le luci delle vetrine per una settimana, dal 26 marzo al 2 aprile, in segno di protesta. Grazie.